Salvatore Granvilano, ma quali sono le novità che emergono in questa lunga battaglia che l'ONU ha avviato per avere riconosciuti i diritti sull'amianto? Queste diciamo non sono ancora diritti riconosciuti dall'amianto, ma bensì dopo tante indagini della procura ci sono state rinviate a giudizio 5 giorno 19 di luglio per riguardando la vasca 4 dell'isola 32 e i 85 sacchi di big e ben all'isola 15. Questi operai dello stabilimento che hanno avuto contatto quotidiano con l'amianto, quando saranno riconosciuti vittime dell'amianto e quando riceveranno in effetti i soldi che spettano? Per essere riconosciuti come vittime dell'amianto noi abbiamo fatto un protocollo con allora il dottor Candaro e lo stringo lo facciamo all'ospedale di Gela in cui noi facciamo le malattie professionali e riguardando a quello che ci risulta vengono riconosciuti se ci sono delle placche oppure ci sono degli infonoidi dipende la patologia perché le placche già sono malattie professionali mappate come MP57 quando trovano le placche automaticamente scattano una denuncia alla magistratura e su tutti questi lavoratori che hanno fatto queste stringhe all'ospedale di Gela tutti sono stati riconosciuti dall'amianto come malattia professionale causata dall'amianto Sì ma se ancora fino ad oggi si parla di amianto, si parla di aver riconosciuto un diritto sacrosanto vuol dire che non tutto è stato fatto? Non è stato ancora fatto niente a livello di diritti del lavoratore per aver riconosciuto i benefici a livello pervenenziale perché i signori della regione siciliana non hanno fatto ancora né il censimento né le mappature a livello regionale come Gela, Siracusa e Priola e Milazzo In altre regioni d'Italia ci sono lavoratori ai quali viene riconosciuto il diritto di aver lavorato con l'amianto? Sì, sono stati 15 siti a livello Italia, noi siamo la Sicilia il nostro presidente regionale non si è indegnato neanche di dare gli atti di indirizzo alla regione siciliana per avere il nostro diritto che ci aspettiamo da 20 anni E adesso cosa farete per aver riconosciuto il diritto? Ci stiamo costituendo parte civile riguardando i 5 che sono stati rinviati a giudizio dalla magistratura dopo lunghe indagini sono stati rinviati a giudizio i dirigenti dell'Ene aggiungo che il 24 settembre ci sarà un'altra udienza che sono stati rinviati a giudizio altri 22 dirigenti dell'Ene E voi vi costituite parte civile? Ma già siamo stati costituite parte civile a Lona e alla Nuova